Benvenuti al canale Cagliari News, la vostra fonte di notizie calcistiche. Non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere le novità della Cagliari. La sessione estiva di calciomercato è alle porte e tutte le squadre della serie A23-24 sono attive da giorni per farsi trovare pronte. Il Cagliari di Claudio Ranieri è chiamato a rinforzare una rosa uscita trasformata dalla grigia retrocessione della scorsa stagione. Un nome emerso ultimamente, e riportato dalla Gazzetta dello Sport, è quello del classe 94 Ladrienta Mezza Auzza, dato in uscita da Lellas Verona. Il centrocampista camerunense nell'ultima stagione ha saltato una sola partita, scendendo in campo per 38 volte tra campionato e spareggio salvezza. Il club di Tommaso Giulini lo valuta 4 milioni di euro più dei possibili bonus da inserire ma la sensazione è che si debba trovare una quadra il prima possibile. E voi tifosi rosso-blu, pensate che la Cagliari dovrebbe ingaggiare Adrienta Mezza? Lasciate la vostra opinione nei commenti, poiché è molto importante per la Cagliari.